Anche quest'anno tornano i mercatini della solidarietà per stabilire un filo, un legame tra i bambini fanesi e quelli di zone meno fortunate della loro realtà. Sì, quest'anno continuiamo a seguire questo filo rosso della solidarietà che lega le bambine e i bambini delle scuole fanesi alle bambine e i bambini di realtà che invece incontrano difficoltà legate alla guerra, alla malattia e alla povertà. Quest'anno la collaborazione è con due associazioni cittadine, l'associazione Apito, l'associazione Don Paolo Tonucci e l'associazione Amici del Chilombo per sostenere con i fondi raccolti con il mercatino natalizio le bambine e le bambine delle scuole delle favelas brasiliane. Per farlo c'è un lungo lavoro che ha coinvolto più di 200 bambini, quasi 300 tra insegnanti e genitori in laboratori che in questi mesi sono stati condotti dal comune di Fano in servizi educativi e dal centro di ricerca e mediazione interculturale attraverso il protagonismo prezioso di Stefania Carboni. L'appuntamento è domenica a partire dalle ore 16 fino alle 18 e 30 in piazza 20 settembre davanti all'albero di Natale. Ci saranno tutti i mercatini delle scuole elementari dei Cioraggi, Corridoni, Gentile, Luigi Rossi e della scuola dell'infanzia Collodi di Gimarra con i prodotti elaborati appunto nei laboratori in questi mesi e con i quali cercheremo di dare un senso a una Natale felice ma anche attento ai bisogni delle bambine e dei bambini meno fortunati.